Un metodo da considerare per abbattere le nostre tasse del 30%, vediamolo insieme. Molti di voi già lo conosceranno, ma in questo video andiamo ad analizzare quali sono i pro e i contro di utilizzarlo. Ovviamente stiamo parlando dell'investimento in startup, che ci può dare o il 30% o il 50% addirittura di detrazione fiscale come persona fisica o di deduzione se siamo una SRL. Quindi, per dirla in soldoni, se investissimo 10.000€ avremmo nel caso del 50% 5.000€ di detrazione sulle imposte da pagare o nel caso del 30% 3.000€ di detrazione. Quindi sono numeri molto sostanziosi e molto invitanti. Ma cosa c'è dietro? Partiamo dagli aspetti positivi. Ovviamente abbiamo una sensibile riduzione del rischio, che non è da sottovalutare, grazie al fatto che una parte di capitale al momento del nostro investimento poi ci viene restituita con la detrazione o la deduzione fiscale. Il secondo vantaggio è ovviamente la possibilità di avere un ritorno di questo nostro investimento molto alto perché essendo startup hanno delle possibilità di crescita esponenziali. Terzo aspetto positivo, che per tanti diventa molto importante, è una tipologia di investimento nell'economia reale, quindi nelle persone vire, nelle aziende del territorio. Quindi comunque un investimento che possiamo vedere, possiamo entrarci in contatto, possiamo parlare con l'amministratore, possiamo eventualmente anche collaborare a questo progetto. Quindi è sicuramente molto più motivante di un investimento dove siamo completamente passivi. Ma passiamo adesso agli aspetti negativi, che sono fondamentalmente due. Il primo è sicuramente la possibilità di perdere il nostro capitale. Certo, una parte ci è già tornato indietro, quindi l'abbiamo già messo al sicuro, ma la restante parte, quindi il 50% o il 70%, rimane investita. Non sono assolutamente vire quelle statistiche che dicono che il 90-95% delle startup fallisce perché se prendiamo gli studi del Politecnico di Milano, già relativi a tutte le startup che passano dai portali di crowdfunding, questa percentuale scende drasticamente. Quindi le percentuali sono completamente diverse. Il secondo aspetto da considerare è sicuramente la scarsa liquidabilità di questo tipo di investimenti, ovvero se vogliamo vendere la nostra quota di partecipazione nell'azienda, sicuramente non è una cosa immediata come schiacciare un tasto quando vendiamo le azioni in borsa. Ma facciamo anche questo tipo di considerazione, perché se quei soldi investiti li avessimo dovuto pagare in tasse, certo che più in liquido di quello non c'è niente, perché sono soldi che non ci torneranno mai indietro. Quindi sicuramente il beneficio fiscale e la detrazione fiscale va a compensare anche questo aspetto di scarsa liquidabilità dell'investimento. E per valutare e approfondire i migliori progetti di investimento in startup, sito officineinvestimenti.it, area, officina club.